Benvenuti al liceo statale Gonzaga di Chieti. Ci troviamo nel punto più alto della città di Chieti, nella zona della Civitella, e oggi vi presentiamo quella che è la nostra offerta formativa. Il liceo statale Gonzaga offre la possibilità di scegliere tra tre in diversi indirizzi di studio, il liceo linguistico, il liceo delle scienze umane, il liceo economico-sociale che era nato come un'opzione delle scienze umane. I tre licei sono tutti e tre a sfondo umanistico e vanno tutti a far emergere quelle che sono le caratteristiche della società contemporanea. Il liceo linguistico attraverso lo studio delle lingue straniere, infatti è possibile studiare oltre all'inglese il francese, lo spagnolo e il tedesco. Il liceo delle scienze umane permette un approfondimento con lo studio della psicologia, della pedagogia, della antropologia e della sociologia. Il liceo economico-sociale permette di aprirsi anche al mondo del sociale e dell'economia, mettendo insieme quelle che sono le caratteristiche dell'antropologia, della psicologia, insieme al mondo del diritto e dell'economia. Inoltre, all'interno del percorso del liceo linguistico, i nostri studenti possono scegliere il percorso ESABAC, un percorso che dal terzo anno permette loro di studiare in lingua francese anche la disciplina della storia e al termine del quinquennio di prendere anche il secondo diploma, non solo quello italiano, ma anche quello francese, in modo da poter poi avere un'opportunità lavorativa maggiore negli altri paesi dell'Unione Europea. I nostri licei vanno tutti a ottemperare alla necessità dei ragazzi di avvicinarsi al mondo del territorio, infatti offriamo la possibilità di avvicinarsi alle università della città di Chieti e al mondo della scuola, infatti i nostri studenti del liceo linguistico seguono seminari all'università degli studi di annunzio nella facoltà di lingue e i nostri ragazzi dell'indirizzo delle scienze umane vanno avanti con stage all'interno delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie dell'ambito cittadino. Inoltre, per i ragazzi del liceo economico sociale, in questo anno scolastico particolare, si è pensato di portare avanti un percorso legato al volontariato. Abbiamo celebrato qualche settimana fa la giornata nazionale dell'economico sociale in cui sono stati invitati i rappresentanti delle cooperative sociali di tutto il mondo del volontariato e del sociale dell'ambito cittadino. In questo periodo di pandemia sicuramente ciò che manca di più ai nostri ragazzi, in particolare quelli del linguistico, è la possibilità di partecipare agli stage e agli scambi all'estero. Tuttavia abbiamo cercato di sopperire a questa esigenza mettendo in atto dei partenariati con scuole francesi, tedesche e spagnole e lavorare a distanza con loro attraverso di training e lezioni in modalità a distanza. Il liceo Gonzaga è una scuola che guarda al futuro senza dimenticare il presente e il passato. Non dimentichiamo i tanti progetti di archeologia che abbiamo portato avanti nel corso del tempo per vedere da cosa è nato il nostro presente e per proiettare i nostri studenti verso il futuro. Il futuro che li aspetterà dopo i cinque anni e sicuramente vedrà i loro sogni realizzarsi. Vi ricordiamo quindi tutte le date dei nostri Open Day che partono dal 18 dicembre 2021 fino al 22 gennaio 2022 in tre giornate in cui vi daremo la possibilità online di conoscere tutti i nostri progetti, tutte le nostre attività e di fare con noi un tour virtuale all'interno della nostra scuola. Un appuntamento da non perdere intanto il 18 dicembre 2021. Sono Grazie a tutti.